Altro passo in avanti verso la promozione in Serie B per le ragazze a Maranto. L'Arezzo Calcio Femminile ha infatti dominato il derby toscano, superando il Ponte d'Era per 4-0 grazie alla rete iniziale della giovane attaccante classe 2004 Ivanova Dimitra, seguita da una doppietta dell'altra punta Carolina Paganini e dalla quarta rete da parte di Natascia Carrot. Le due squadre hanno dato vita ad un primo tempo equilibrato e piuttosto bloccato. A rientro dall'intervallo le padrone di casa cambiano passo e dopo aver colpito una traversa con Ceccarelli al 62esimo Ivanova sblocca il punteggio. L'Arezzo poi tra il 68esimo e il 70esimo ha messo i tre punti in cassaforte grazie alla doppietta di Paganini. A 5 minuti dal termine Carrotso infine cala il poker definitivo. Con questa vittoria le ragazze di Mister Testini salgono così a quota 60 punti. Abbiamo fatto molto bene anche il primo tempo a livello di gioco, di sviluppi, di situazioni. È normale un po' il vento, eravamo un po' in difficoltà però abbiamo creato tantissime situazioni. Anche il primo tempo che abbiamo concretizzato magari non benissimo però la squadra a livello di gioco, di idee, di movimenti ha fatto veramente bene. Tutte le squadre comunque sia lottano per un obiettivo. Il Ponte d'Era in questo momento lotta per la zona retrocessione o comunque sia per giocarsi i play-out. Quindi sapevamo che era una partita complessa. Comunque il Ponte d'Era dispone di 4, 5, 6 giocatrici importanti che l'anno scorso hanno fatto la Serie B. Quindi sapevamo che era una partita che dovevamo affrontare nella maniera giusta ma le ragazze sono ste brave e hanno veramente fatto oggi un'ottima gara. Il mister è riuscito tra il primo e il secondo tempo comunque a tranquillizzarci, ci ha detto che la partita sarebbe stata ancora lunga, di non avere fretta e quindi credo che questo poi sia servito nel rientro in campo. Sei contenta di aver segnato? Sono molto molto contenta, anche perché ho avuto un inizio stagione un po' difficoltoso a causa di un infortunio un po' rognoso che mi ha tenuto fuori un bel po'. Me lo ricordo, sì. Esatto, quindi sono estremamente contenta innanzitutto per la squadra, per il risultato, per i tre punti guadagnati e dopo ovviamente a livello personale.